Oli eccoci, buongiorno. Farebbe piacere, non nascondo anche a me, un giorno sicuramente succederà di fare il mercato delle suggestioni, il mercato degli scenari. Tutto fatto, tutto fatto, tutto fatto, tutto fatto, succederà questo, succederà quest'altro, e poi arriva Gianluca Di Marzio che ti scrive, sì, servirà un ultimo incontro mercoledì. Ah, allora servirà un ultimo incontro. Cioè... perché poi il calciomercato, noi siamo abituati a considerarlo la fiera dei sogni, delle illusioni, la bolla estiva, ma è un fatto legato ai fatti. Quindi, quello che dico sempre, ad esempio qui stiamo parlando di Morata, evidentemente, quello che dico sempre è, finché si dice un passo, un passo, un passo, praticamente fatto, praticamente fatto, no. O è fatto o non è fatto. Quindi, avevamo iniziato la scorsa settimana a leggere, perché io leggo come vuoi, eh, martedì, mercoledì, esite mediche. Invece già oggi, Gianluca Di Marzio, gli dice mercoledì necessario, probabilmente, mercoledì, un nuovo incontro. Ecco, quindi, sulla gazzetta dello Spor si scrive ancora qualche questione in sospeso. E quindi poi, è così che, ma come? Il Milan non aveva detto che era tutto fatto? No, il Milan non ha mai detto una parola su Alvaro Morata. E quindi, poi, il calcio diventa tutto questo palleggio di situazioni, di sensazioni, di cose dette, di cose non dette, ma deve essere soprattutto un fatto di cose fatte. vedremo, vedremo quello che accadrà questa settimana che ci auguriamo possa essere importante. Mi sono piaciute molto le immagini dell'allenamento di mister Fonseca e di Sammy Ciuqueze. Sammy Ciuqueze con l'elastico trattenuto da dietro dal mister. Io non so come andrà questa stagione, come la fine di questa stagione la giudicheremo e giudicheremo il rendimento dei giocatori, il lavoro dello staff, lo stesso lavoro del mister e quant'altro. però, ecco, la sensazione che mi ha dato Paolo Fonseca fin da una settimana fa alla conferenza di presentazione a Milanello, che anche nella presa di possesso fisica proprio del campo esterno, quando lo ha guadagnato salendo per il primo allenamento della stagione, mi danno una sensazione di controllo e di fiducia. Poi sono sensazioni, le sensazioni non devono essere illusioni, le sensazioni sono sensazioni, poi vedrai, verificherai se erano sensazioni giuste o sbagliate. Il calcio è questo. In base alla tua esperienza, noti alcune cose, si formano in te delle sensazioni e poi le devi mettere in discussione e sarà la stagione a dire se sono di un segno, di un altro o di un altro ancora. Quella di oggi è una giornata che accomuna due ragazzi, due pupilli di Rino Gattuso, erano i suoi pupilli, Tommaso Pobega e Marco Brescianini. Se Rino Gattuso fosse rimasto nell'estate 2019 quando poi invece si è congedato dal club, lui voleva puntare molto su Tommaso Pobega e Marco Brescianini. Col senno del poi scopriamo che sarebbe stato un po' presto puntare fin dall'estate del 2019 su due ragazzi che avevano bisogno molto di fare la loro maturazione. Per oggi Tommaso Pobega compie gli anni, tanti auguri Tommi e Marco Brescianini sembra sul punto di lasciare il Frosinone per andare all'Atalanta, qualsiasi cosa accada lo ricordiamo sul mercato per quanto riguarda Marco Brescianini leggo sui siti che il 50% della rivendita di Marco Brescianini spetta al Milan e quindi potrebbe essere evidentemente un surplus economico per il club visto che nelle scorse settimane parlavamo del possibile risparmio nel caso in cui Stefano Pioli fosse andato alla Litiad così non è stato e quindi diciamo che si potrebbe aprire questa nicchia riguardante Marco Brescianini e si dice nei conciliaboli del mercato che l'Atalanta potrebbe prendere Marco Brescianini altro ex minanista come Mario Pasalic per sostituire con Miners poi magari all'inizio lo sostituiranno in un altro modo Gasperini però su Brescianini vuole lavorare per formare un altro con Miners e queste sono le cose che fa Gasperini e quindi insomma vedremo vedremo come vedremo come andrà a finire per quanto riguarda invece ciò che succede all'atere del mercato ci sono le questioni legate al nuovo stadio cosa c'entra il mercato con il nuovo stadio c'entra è come se c'entra perché con quel genere di strutture di potenziamento di proprietà e di ricavi che un club cresce di livello negli anni stabilmente sul mercato sono il mercato si deve fare non con la giacca da tirare al proprietario il mercato si deve fare con i soldi che ricava un club e per ricavare soldi un club deve investire potenziarsi e strutturarsi che è quello che sta facendo che sta cercando di fare il MINA leggo che leggo della lettera aperta dei professori i professori sono uomini di cultura meritano rispetto sempre e comunque io non so se i professori che dicono che queste aree non edificate devono rimanere ad uso agricolo non so se sono mai stati nell'area San Francesco l'uso dell'area San Francesco è di abbandono non agricolo è di ci si trovano siringhe ci si trovano refurtiva ci si trova erba incolta non uso agricolo quindi diciamo che le prese di posizione in buona fede degli uomini di cultura vanno sempre rispettate però ecco non è frustrando ogni iniziativa perché poi di calcio parlano tutti parlano tutti allora chi prendiamo allora chi prendiamo allora chi prendiamo e parliamo di chi prendiamo con la lettera dei professori e con il no al nuovo stadio del Milan negli anni si prenderà a seconda di come di come butta non si può parlare sempre di calcio perché quando si tratta di fare qualcosa per il calcio bisogna fare le anime belle per prendere le distanze dalle edificazioni e dalle costruzioni di contro c'è di contro c'è anche e soprattutto se me lo consentite l'inizio dei lavori del tavolo dell'accordo di programma l'accordo di programma è un tavolone un tavolo importante dove oltre al comune di San Donato milanese su cui c'è l'area San Francesco ci sono la regione Lombardia le ferrovie dello Stato la città metropolitana il comune di Milano insomma tutti il parco sud di Milano tutti gli enti preposti perché ci sono una serie di criticità dal punto di vista logistico organizzativo trasporti territoriale quant'altro che devono essere discusse e monitorate una ad una e l'accordo di programma è un lavoro di contenuti un lavoro importante che dura un anno e mezzo quindi dopo un anno e mezzo dovranno da oggi da questo periodo quindi parliamo siamo nell'estate del 2024 parliamo di fine 2025 tutto dovrà essere stato esaminato deciso e chiarito perché un paese come il nostro in cui la quarta quinta filiera industriale del paese cioè il sistema calcio ha bisogno di una legge secondo me emergenziale sugli stadi per non morire per non scendere definitivamente di livello non può trasformare tutto quello che si vuol fare per intraprendere per migliorare per crescere in una sorta di palude dell'indecisionismo e quindi auguriamoci che a fine 2025 si possa arrivare ad un dunque ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.